Un lancio di razzi dal sud del Libano verso Israele potrebbe essere opera di gruppi sunniti legati ad Al-Qaeda. Due hanno causato lievi danni, mentre uno è stato intercettato in volo dal sistema antimissile Iron Dome. Dietro il lancio, secondo il portavoce dell'esercito israeliano, ci sarebbero jihadisti internazionali. La zona colpita è quella intorno a Naharia, chiuso fino a nuovo ordine per il timore di nuovi razzi, lo spazio aereo su Haifa, nel nord Israele. Chiunque provi a farci del male si farà male, ha ammonito il premier israeliano Benjamin Netanyahu. L'esercito libanese afferma di aver rinvenuto nei pressi di Tiro, 90 chilometri a sud di Beirut, la piattaforma che potrebbe essere stata utilizzata per il lancio.